wow che figata non è? ma cosa vuol dire? ok, questa ruota, perfetto per andare avanti come si fa a scendere? ah non mi fa andare più in basso di così figata ma che storie malate ok faccio così e faccio così ma che figanzia! vediamo per fare la foto penso di aver fatto una foto credo sì ok anzi mi metto qua che è più figo ok scendi e per atterrare che figata ok e così sta filmando ma quanto è bella stabile ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.